Sciopero della scuola, chiusi molti istituti, grande adesione a Lucca in Valle del Serchio da parte del personale docente e non allo sciopero unitario della scuola. Folgorato dal cancello automatico, il cuore batte regolarmente, ricoverato in rianimazione, il 15 anno è rimasto folgorato domenica mentre spingeva un cancello automatico, ma le sue funzioni cardiache sono pienamente riprese. Irama e Gabbani tra i protagonisti delle notti capannoresi, presentato il programma di Malanotte e Sì, serate di musica leggera, classica e jazz, ma anche teatro e cinema. L'atletica è un gran meeting subito internazionale, grande atletica al Moreno Martini con il doppio record italiano nel martello femminile, Diaz incanta nel triplo con 17.33, non mancano le sorprese, bene anche gli atleti della Virtus Lucca. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale, dunque in primo piano per quanto riguarda l'edizione di Lucca, Piana e Garfagnana partiamo dallo sciopero della scuola, tanti i docenti e il personale scolastico che è sceso in piazza per protestare contro i tagli e gli accorpamenti che sono previsti dal prossimo anno. No, partiamo dalla Valle del Serchio dove per noi c'erano Luca Galeotti e Abramo Rossi. Grande adesione in tutta la Valle del Serchio da parte del personale docente e non allo sciopero unitario della scuola. In quasi tutti i plessi la partecipazione è stata pressoché massiccia. La prima volta c'è stata un'adesione molto alta dei docenti a questo sciopero. Noi solitamente riteniamo opportuno partecipare solo quando sono tutte le singole sindacali e in questo caso però le motivazioni sono importanti. Grande adesione anche nell'Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana ed in quello di Castelnuovo, con diversi cartelli contro il decreto legge 36 ed una grande condivisione alle tematiche principali della protesta. Ma i motivi sono principalmente i tagli che sono previsti da questo nuovo decreto del governo e quindi oggi abbiamo deciso di farci sentire e di scioperare per il bene nostro degli insegnanti e per il bene delle famiglie perché questi tagli soprattutto nelle piccole realtà come la nostra della Garfagnana si faranno molto sentire. In Mediavalle anche all'ISI di Barga ottima partecipazione allo sciopero unitario che in questo caso specifico ha visto mobilità tra l'Assemblea Sindacale Unitaria RSU dell'ISI Barga. L'iniziativa ha visto una notevole partecipazione di personale docente e non docente con le lezioni che praticamente non si sono svolte. Davanti alla scuola un presidio di personale per dire no al decreto legge 36. Oltre a queste scuole l'adesione è stata la medesima anche negli altri plessi scolastici della Valle del Serchio. Lo sciopero ha avuto grandissima partecipazione anche a Lucca e in Valle del Serchio. Andiamo a San Vito. I docenti della scuola Chelini che hanno aderito allo sciopero si sono trovati davanti alla scuola per esprimere il loro dissenso, la loro preoccupazione e indignazione nei confronti delle misure proposte dal decreto 36 che non ha previsto dibattito parlamentare e sindacale. Rifiutiamo il modello e le modalità di aggiornamento previste dal decreto perché non in linea con i bisogni reali di docenti e studenti. Questo hanno detto gli insegnanti in piazza. Rivendichiamo l'allineamento della professione docente agli standard europei in termini qualitativi e stipendiali. Voltiamo pagina. Ci sono per fortuna buone notizie sul ragazzo rimasto folgorato domenica mentre spingeva un cancello automatico, le sue funzioni cardiache sono riprese regolarmente. È ricoverato in rianimazione ma le sue funzioni cardiache sono pienamente riprese. Il 15enne è rimasto folgorato domenica mentre spingeva un cancello automatico finendo un arresto cardiaco per la forte scossa elettrica. Il ragazzo è stato soccorso dai genitori e da alcuni vicini che gli hanno praticato un massaggio cardiaco guidati via telefono da un operatore del 118 e poi dai soccorritori anche con l'uso del defibrillatore. Quando il suo cuore dopo oltre dieci minuti di massaggio è ripartito il ragazzo è stato trasportato in codice rossa all'ospedale San Luca dove si trova ricoverato in prognosi riservata in como indotto e secondo quanto appreso le sue funzioni cardiache sono pienamente riprese. Le sue condizioni rimangono gravi. Il 15enne ieri era andato a pranzo a casa dei nonni assieme ai genitori. Arrivate al cancello elettrico all'ingresso della villetta all'annunziata periferia di Lucca questo si è bloccato a metà. Il ragazzo si è avvicinato con l'intento di spingerlo manualmente finendo folgorato. Colpiti in modo più leggero dalla scossa anche i genitori del ragazzo che hanno cercato di staccare il figlio dalla cancellata in ferro. Il cancello è stato posto sotto sequestro e a titolo precauzionale è stato dichiarato inagibile il primo piano della villetta. Il sostituto procuratore Elena Leone ha aperto un fascicolo e nominato come consulente un tecnico dell'ASL per capire se l'incidente sia di peso dall'impianto elettrico che azione il cancello della casa. Adesso andiamo a fare il punto sui contagi. I numeri come vedete anche dalle nostre grafiche sono stabili. Sono 323 pazienti ricoverati nei posti letto Covid, il tasso di positività al 9,6%, 21 i pazienti in terapia intensiva, 8 i decessi in Toscana e sono 38 in provincia di Lucca le nuove positività registrate nelle ultime 24 ore. Voltiamo decisamente pagina. 30.000 tonnellate di carta prodotte grazie all'energia del vento e l'obiettivo raggiunto dalla Sofidel di Porcari. Sentite Giulio del Fiorentino. 30.000 tonnellate di carta, ovvero l'equivalente di quasi 150 milioni di rotoloni e quanto Sofidel, gruppo cartario di Porcari, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, ha prodotto facendo ricorso all'energia pulita proveniente dal parco eolico in Sicilia, a un anno dalla firma dell'accordo di partnership con RWE Renewables, tra le principali aziende a livello globale nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La collaborazione ricorda l'azienda è nata dalla firma di un contratto di fornitura di lungo termine valido fino alla fine del 2030 che vede Sofidel unico acquirente nel corso dei primi 12 mesi grazie a quattro turbine installate per una capacità totale di produzione di 13,6 megawatt. Sofidel ha potuto contare su oltre 32.000 megawattora di energia pulita proveniente dall'impianto siciliano, pari a più del 35% dell'energia elettrica acquistata dalla rete e dagli stabilimenti italiani del gruppo Sofidel, con una conseguente riduzione di emissione di oltre 15.000 tonnellate di CO2. E adesso spazio alla cultura. Grazie ad un accordo inedito, due concerti riscoprono la messa a quattro voci di Giacomo Puccini. Una sinergia inedita per una produzione che segna un primo passo verso le celebrazioni pucciniane della 2024. Due concerti con uno dei capolavori di Giacomo Puccini, la messa a quattro voci per soli, core e orchestra, grazie all'accordo tra il Conservatorio Boccherini, Fondazione Festival Pucciniano e Arcidiocesi di Lucca. Il tutto con il sostegno di Fondazione Banca del Monte, il gruppo Esedra e il patrocinio dei comuni di Lucca e Viareggio. Il primo appuntamento è per domenica 5 giugno alle 21 nella Cattedrale di San Martino, il secondo domenica 12 giugno, sempre alle 21, nella chiesa di San Paolino a Viareggio. Sì, questo aspetto di Puccini non si conosce molto, quello di Compositore Sacro, anche se in realtà lui viene da una famiglia che per secoli ha servito la liturgia attraverso la composizione e l'esecuzione dei brani sacri. Ed è un'esecuzione importante che sarà replicata in diverse chiese della diocesi, speriamo intercetterà il gradimento dei lucchesi e dei turisti, proponendo un volto inedito di Puccini e che forse poi non l'abbandonerà più, insomma uno che ha fatto queste cose, una sorta di tensione spirituale se la porta sempre dentro. Direi che è una collaborazione molto importante, ringraziamo davvero Sua Eccellenza per la disponibilità che ci ha dato e abbiamo coinvolto varie chiese perché riteniamo appunto di portare Puccini nelle chiese fra i fedeli e di valorizzare quell'aspetto appunto spirituale e sacro che Puccini sa veramente interpretare in questa importante composizione. Impossibilitata a presenziare alla conferenza stampa, la Presidente della Fondazione Festival a Pucciniano, Maria Laura Simonetti, affida a questo messaggio l'augurio di successo di questa iniziativa. È solo unendo le forze che riusciremo a comunicare e promuovere in Italia e nel mondo il nostro straordinario patrimonio culturale e i tanti talenti che è in grado di esprimere. Adesso ci spostiamo a Capannori dove è stata presentata la rassegna e a Malanotte sì, Irama e Gabbani saranno tra i protagonisti delle notti capannoresi. Serate di musica leggera, classiche jazz, ma anche teatro e cinema, oltre a tante altre proposte. Torna a Capannori l'appuntamento estivo Malanotte sì. Dal 17 giugno nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale si alterneranno tantissimi spettacoli per l'amata manifestazione promossa dal comune e organizzata da Leg Live Motion Group. Accanto ai nomi degli spettacoli a pagamento, Jonathan Canini, Francesco Gabbani, Rama, un evento speciale con DJ Set, con la musica di Ricky Verroa e Mario Più e la voce di Luca Pechino. In programma anche i consueti eventi gratuiti con artisti di livello nazionale e iniziative di spessore culturale. La musica rap Wom Fest Off con Local Cheers, il concerto del seguitissimo Giorgio Vanni, la serata vintage con i più grandi successi dagli anni 60 agli anni 80. Infine due gli appuntamenti in piazza. 17, 18, 19 giugno la festa della birra e 9, 10 luglio sorrisi e cartoni il cosplay. Una bella riconferma, credo il calendario parli da solo. Sono orgoglioso intanto di presentare un programma così nutrito per vari palati e per varie attrattive. Per cui sono convinto che il risultato che otterremo, oltre a quello di soddisfazione personale, anche il pubblico potrà essere gratificato da che cosa portiamo sul palco. Saranno in 130 le attrici e gli attori Under 30 che arriveranno al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana all'1 e il 2 giugno per la seconda call delle audizioni Under 30, dedicata alla preparazione dello spettacolo Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre, Le donne dell'Orlando Furioso, un progetto teatrale di Consuelo Barilari articolato in nove episodi e realizzato nell'ambito di terre furiose con la produzione di Schegge di Mediterraneo, Festival dell'Eccellenza al Femminile. E adesso spazio allo sport. Nel weekend Lucca è stata per un giorno capitale mondiale dell'atletica con il primo meeting Città di Lucca organizzato dalla Virtus, una splendida giornata di prove maschili e femminili, condita anche da alcuni record che vi abbiamo proposto in diretta. Il riassunto della giornata nel servizio di Guido Casotti. Una giornata storica per la città e per la Virtus. Va in archivio il primo meeting internazionale Città di Lucca con una cifra tecnica di eccellente rilievo. Due record italiani, prestazioni di ottimo livello e anche qualche sorpresa. Protagoniste assolute le due ragazze del martello. Sara Fantini stabilisce il nuovo primato italiano con 74,38, misura di livello mondiale. Rachele Mori fa quello juniore sfiorando i 70 metri. Tutto per la soddisfazione di Nicola Vizzoni, il loro mentore. Non delude Andy Diaz nel triplo. Il cubano illumina subito la giornata del Martini con un balzo a 17,33 e poi a 17,09 prima di dire basta ma con la netta sensazione di aver visto all'opera un autentico fenomeno. La sorpresa arriva dai 110 ostacoli dove il grande favorito, il sudafricano Antonio Alcana, assapora l'amarognolo della sconfitta. Gli all'inflige il brasiliano Gabriel Costantino che parte meglio e lo infila così in 13,51. Entusiasmante derby, tutto virtussino su 3.000 siepi tra il passato e il futuro. La spunta l'ormai ex-Osea Chisorio Chimeli che prima rintuzza il tentativo di fuga di Albert Kipcircir e poi stronca il connazionale conquistando una bella vittoria nel segno dell'orgoglio e di una classe ancora intatta. Buone risposte anche dagli atleti della Virtus. Idea Pieroni è terza nel salto in alto con 1,82 nella gara che vede il successo di Erika Furlani davanti a Marta Morara. Entrambi a 1,85. Stesso piazzamento nel salto in lungo per Elisa Naldi. Qui vince l'astronascente Amani che balza a 6,19 in mezzo però a 5 nulli. Troppi. Prova non esaltante va detto di Roberto Orlando nel giavellotto, dominato dal croato Horvat. Il salernitano è secondo ma la misura non è granché. Sorpresa anche nel getto del peso, Bianchetti batte il favorito Leonardo Fabri, parso appannato. Ma lo spettacolo e gli applausi del folto pubblico presente vanno ad atleti e personaggi straordinari quali Niki Russo e Oni Tapia. Chapeau di fronte a questi due giganti in tutti i sensi. Il meeting si chiude con i 200 metri dominati dal sudafricano Luxolo Adams. E l'ex campione del mondo, Ramil Gulliev, ad annaspare e a chiudere piuttosto dietro. Segno del tempo ormai passato e inesorabile anche per il campione turco. Il primo meeting in città di Lucca va dunque in archivio con soddisfazione e con un bilancio davvero lusinghiero. Una gran fatica per tutti ma ben ripagata e con la voglia di riproporsi. Appuntamento al 2023. Prima di chiudere veniamo agli auguri di questa sera. Tanti auguri di buon compleanno ad Elisa Fabri di Segromigno per i suoi 18 anni. Da mamma Daniela, papà Stefano, dal fratello Francesco e dai nonni. E tanti auguri di buon compleanno anche a Giuseppe Pieretti di Lammari che compie 29 anni dai nonni Marinella e Guido dicendogli sei un nipote fantastico. E anche dalla zia Silvia. È tutto per quanto riguarda l'edizione di Lucca, Piana e Garfagnana. Adesso la linea passa al telegiornale della Versilia.